Ciao ragazze e ciao ragazzi, sono Dario e bentornati su Recenso. Questo è il ventesimo video della settimanale che vi propongo a riguardo quindi alle recensioni dei libri e dei fumetti che leggo e prima di parlarvi del libro della settimana voglio aggiornarvi un po' sulla situazione del contest che sta avvenendo all'interno dell'Accademia YouComics. Il contest doveva scadere il 29 quindi ieri però si è deciso di prorogarlo fino al 10 di questo mese per cui un paio di giorni, cioè un paio, una decina di giorni e sapremo più o meno chi sarà il vincitore. Poi vi posterò le immagini delle tavole realizzate dai ragazzi che io ho avuto la fortuna di vedere in diretta finalmente dal vivo perché appunto sono andato a caserta e quindi spero di ritornarci quanto prima. Senza perdere tempo voglio quindi parlarvi di questo libro. Tolgo la fascetta della pubblicità di sotto perché è una bellissima copertina. Eccolo qua. Vi sto parlando del mummificatore scritto da Nicola Brunialti, uno scrittore italiano. Questo libro è della Newton Compton, costa 9,90 euro, ha la sovracoperta morbida, quasi posso dire vellutata e il cartonato sotto riprende la copertina, come già vi dissi nel Face to Face. Parliamo di Nicola Brunialti che è nato a Roma nel 1972. Nel 2009 dopo una carriera come copywriter si è dedicato completamente alla scrittura. Sua infatti è la canzone cantata da Renato Zero intitolata Dormono Tutti ed è stato anche uno degli autori della trasmissione televisiva, mi sembra, della Mediaset che ha incastrato Peter Pan. Ed è autore anche delle pubblicità della Lavazza inquadrate nell'ambiente del paradiso. Infatti, se non sbaglio, in questi giorni, proprio stamattina ho visto la nuova pubblicità con Brignano stessa su YouTube e devo dire che è molto divertente. Poi a me Brignano piace, quindi tanto di cappello. Parliamo di questo libro che io ho trovato veramente affascinante, molto molto intrigante, anche se la scrittura è una scrittura che ricorda un po' i primi anni dell'adolescenza, non perché banale, ma perché chiara, semplice soprattutto e immediata, per cui non è quella scrittura ponderata, pesante e scocciante. Per di più questo è un fantasy, un giallo fantasy, ed è il primo giallo fantasy che leggo e mi ha un po' riportato appunto per la scrittura, un po' alle prime letture che sfogliavo. Dunque, la storia si svolge in gruppi di tre capitoli. Questi tre capitoli raffigurano un uomo di cui non sappiamo nulla, né come descrizione fisica, niente di niente. L'unica cosa che sappiamo di quest'uomo è la sua bramosia e anche il suo bisogno fisiologico, possiamo dire, di uccidere le persone. Poi il secondo capitolo riguarda Sophie, o Sophie, che è una bambina alquanto strana di 13 anni, che vive a Vienna. Questa ragazzina viene vista un po' diversa. Già il fatto che i suoi capelli hanno un ciuffo viola o fucsia, non ricordo bene. Comunque ci sono molti connotati che la rendono strana, diversa. Primo fra tutti il fatto che lei ogni giorno va a parlare con il nonno. L'unico problema è che il nonno è morto, per cui parla con la tomba del nonno. E poi il terzo capitolo riguarda il mondo dei fantasmi, cioè il mondo di sotto. Questo mondo di sotto dove i protagonisti sono la famiglia Gospel e in particolare i bambini di questa famiglia, che sono Alma e Andreas. Questi bambini sono molto impazienti, perché nel loro mondo interfacciarsi con quello di sopra, cioè con quello dei viventi, è permesso solo da un'età particolare. Quindi dopo che si è svolta una serie di studi e quindi si ha un po' quella che è la maturità, come l'abbiamo noi nel mondo di sopra. Quindi solo attraverso gli studi poi le persone, i fantasmi, possono poi tornare nel mondo di sopra attraverso vari incarichi, come ad esempio il fantasma dell'opera, oppure il fantasma di un cimitero, il fantasma di una seduta spiritica e tanti altri. Quindi questi due bambini, essendo anche curiosi, irrequieti, ingenui, si avvicinano a una pratica magica, o meglio, una pratica ultraterrena, che quindi li mette più che in contatto con i vivi trasportano un vivo nel loro mondo. Quindi eseguono questa seduta vivitica, che sarebbe una seduta spiritica al contrario, e si ritrovano quindi a doversi occupare di un vivo. Come si allacciano queste tre storie, che apparentemente sono diverse? Eh, questo è dovuto a voi e alla lettura di questo libro, che come ho detto trovo geniale, veramente divertente e interessante, soprattutto tornare indietro anche con la memoria. Ha una lettura semplice, divertente, entusiasmante e piena, non dico di mistero, ma intrigante, perché, anche se io la trama l'ho capita già dall'inizio, non perché mi ho documentato, perché i video che ho visto su queste recensioni non parlavano direttamente della storia, però sin da subito un po' l'intreccio l'avevo capito. Sono rimasto sorpreso verso il risolversi della questione, della trama, anche se però poi alla fine giustamente le cose si risolvono e tutto torna ai ritmi normali. Però è una trama veramente interessante che io vi consiglio, poi soprattutto è uno scrittore italiano e fa sempre bene leggere un po' i nostri compatrioti, i nostri compaesani più che altro, perché comunque è il nostro patrimonio, diciamo così. quindi io vi auguro di poter leggere questa storia. Una cosa che mi ha fatto strano leggere è verso la fine, quando questa persona viva, che viene portata nel mondo dei morti, dei fantasmi, viene presa per il braccio da uno dei fantasmi, quindi sospinta. Ovviamente in tutto il libro si dice che questo, che i fantasmi non possono toccare i vivi, se non nel mondo dei vivi, appunto perché invocati. Quindi qui c'è come una specie di errore nel quale appunto un fantasma, uno spirito, nel mondo degli spiriti tocca uno umano, cosa che per tutto il libro non è possibile. Poi c'è questa piccola svista verso la fine, mi sembra terzo l'ultimo, quattro ultimo capitolo, non lo riesco a trovare. Però è divertente perché ogni tanto una distrazione ci può stare, quindi non è un male, va? È un errore, però può capitare. La storia, vi ho detto, è questa. È interessante, soprattutto scoprire un po' perché è stata scelta anche una bambina, cosa che normalmente non si fa. Si preferisce sempre che sia un ragazzo il protagonista, perché attira forse di più. Però invece questa storia riportata nei panni di Sophie, che è la protagonista, diventa anche divertente da leggere. Prende appunto quel tocco un po' alla Tim Burton, che si nota soprattutto in questa copertina, che per ora sto usando come sfondo dell'iPod, perché nel sito dell'autore ci sta la possibilità di scaricarla. Per cui vi ho detto un po' i toni, non so se si nota bene. Ecco, i toni sia della copertina, ma soprattutto anche proprio della narrazione, riportano un poco alla sposa cadavere o a Nightmare Before Christmas. Ed è bello proprio ritornare su questi ritmi, queste ambientazioni, cupe ma divertenti. Veramente, mi ha fatto molto molto piacere, quindi... Poi ho parlato anche con Nicola Brunialti e ha detto che sta scrivendo un altro libro, per cui non vedo l'ora che lo finisca, per potermi immergere, sperando che sia, non so, il continuo, comunque una storia che abbia gli stessi ritmi, perché anche se giovani, come ho detto, è bello leggere qualcosa che ci riporta un po' all'infanzia delle nostre prime letture. Io spero di non avervi scocciato, per questo ho ridotto un po' la lunghezza del video. Spero comunque di aver detto quello che si deve dire. E nulla. Io vi saluto, ci vediamo la prossima volta e spero che sia la settimana prossima, perché sto pensando di allentare un po' il ritmo, perché quattro libri al mese, quindi una settimana, potrebbe diventare anche una specie di maratona e non so quanto può essere positiva questa cosa, per cui piano piano vedrò. Comunque nella pagina di Facebook troverete aggiornamenti al riguardo. Ancora una volta vi ringrazio per le iscrizioni e i commenti, io vi saluto, vi saluta anche il mummificatore, che sarebbe poi il giallo vero e proprio, la storia vera e propria di questo serial killer. Vi saluta anche lui, ci sentiamo la prossima volta e ci vediamo. Ciao ciao!